Molto preoccupante quello che avete constatato, cioè l'accessione di una dose di cocaina a un ragazzino di 15 anni. Sì, sappiamo che c'è un grosso problema di spaccio, soprattutto che investe i giovani, i ragazzi, gli studenti. Purtroppo questo episodio denuncia una situazione ancora più grave, che ci sono ragazzini bambini, in questo caso un quindicenne, che aveva acquistato, stava acquistando una dose di cocaina. Questo mi preoccupa in maniera fortissima e ci deve stimolare ancora di più a lavorare sulle famiglie, sui luoghi di aggregazione, sui punti di ritrovo dei ragazzi, dei giovanissimi. Io qua direi che è più un bambino che un ragazzo e dà però l'idea anche di una presenza sul territorio importante e efficace che riesce a individuare, a contrastare anche queste situazioni che investono purtroppo i nostri giovani. Non solo il lavoro della Polizia Municipale, diciamo che un ruolo molto importante l'ha svolto ancora il sistema di videosorveglianza. Sì, grazie al sistema di videosorveglianza si è potuto seguire la dinamica della compravendita, per cui i nostri agenti in borghese sono andati a colpo sicuro, hanno arrestato lo spacciatore marocchino, che aveva già precedenti di droga, e hanno fermato anche i due acquirenti, che stavano acquistandola cedendo un MP3, quindi neanche uno scambio in denaro, ma proprio quasi, anzi quasi, un baratto vero e proprio. Bisogna seguire con attenzione queste dinamiche, non voglio lanciare gridi di allarmismo, però occorre una forte attenzione e una concentrazione proprio sulle dinamiche sociali che investono le giovanissime generazioni.